Le amichevoli estive, si sa, contano pochissimo in termini di risultati, offrono però già delle interessanti indicazioni sulla compattezza di squadra e sulle potenzialità dei singoli. Il test, vinto domenica scorsa dalla Fidelis contro l'Unione Calcio Bicelli al Sant'Angelo dei Ricchi ad esempio, ha messo in vetrina il feeling con il gol di Loris Palazzo, uno dei tanti volti nuovi dei Biancazzurri. Reduce dall'esperienza realizzativa in doppia cifra con il team Altamura con cui ha messo a segno 11 centri nella passata stagione, l'attaccante barese ha scelto l'Andrea per provare a trascinarla con i suoi gol nella parte alta della classifica. In attesa degli appuntamenti ufficiali, il primo in programma il 25 agosto in Coppa Italia di Serie D a degli Ulivi contro il Bitonto, Palazzo si è presentato ai suoi nuovi tifossi realizzando una tripletta nell'ammichevole con i bicegliesi. Un buon test anche a livello fisico, anche perché stiamo iniziando a mettere minuti nelle gambe, poi i gol arrivano, il mister l'aveva chiesto dopo la parte di Molfetta di concretizzare le occasioni, ci stiamo allenando per quello. Abbiamo fatto tre gol, abbiamo fatto quattro gol, potevamo farne qualcuno in più, però iniziamo a raccogliere un po' i frutti dell'allenamento. Cerchiamo sempre di trovarci, di provare a giocare nello stretto perché è quello che vuole il mister, poi gli ultimi 30 metri ognuno fa quello che vuole. Non ha alcuna intenzione di disputare un campionato interlocutorio, la Fidelis punta ad essere protagonista nonostante l'elevato coefficiente di difficoltà che presenta il prossimo girone H di Serie D, molto probabilmente il più ostico di sempre. È un girone intrigante, è un girone con tante ottime squadre, tante ottime piazze, sono sicuro che l'Andrea farà la sua parte, dico solo che chi ha intenzione di vincere questo girone deve fare i conti con noi. Nello spogliatore si può soltanto parlare bene di questo girone perché alla fine degli altri ci dobbiamo preoccupare un po' meno perché se ci guardiamo all'interno dello spogliatore siamo una buona squadra, poi avere Foggia, Casarano, Taranto, è tanta roba, fare un campionato del genere anche a livello di visibilità, comunque noi siamo l'Andrea e vediamo alla fine cosa dire al campionato. Altro test in arrivo infine per la Fidelis che domani mattina a partire dalle ore 9.30 affronterà al Sant'Angelo dei Ricchi la Forti Saltamura, ambiziosa realtà del prossimo campionato di eccellenza. Grazie.